iPhone 13 Pro, l'ultimo gioiellino di casa Apple, ne parliamo in questa prova tecnica per capire se è un ottimo strumento per realizzare video. Quindi, ci vediamo questa prova tecnica. Benvenuti a questa prova tecnica dove parleremo dell'iPhone 13 Pro, ma se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per restare aggiornati su tutto ciò che pubblichiamo su questo canale, fondamentalmente prove tecniche nell'ambito video e poi tutte le esperienze e i miei video che realizzo in giro per l'Italia e per il mondo. Ma parliamo di iPhone. iPhone 13 Pro, questo è l'ultimo smartphone di casa Apple che ovviamente ha fatto varie tipologie, dal 13 normale al 13 Pro al 13 Pro Max. Intanto devo dire che io ho scelto il 13 Pro e non il 13 Pro Max perché dal punto di vista proprio delle dimensioni questo secondo me è l'ideale. Il Pro Max è leggermente troppo grande, soprattutto se si vuole utilizzare con una sola mano. Non faremo una recensione completa di questo straordinario device, ma ne parleremo solamente dal punto di vista delle sue funzionalità video. Cioè, la domanda è, possiamo sostituire una telecamera, una mirrorless, per realizzare video di alta qualità? Beh, lo vedremo alla fine di questa prova tecnica. Ma parliamo della dotazione tecnica di questo straordinario smartphone. Sia il Pro che il Pro Max sono dotati di tre telecamere. Abbiamo un 13 mm, un 26 mm e un 76 mm. Quindi un ultra grandangolare, poi la telecamera principale e poi un teleobiettivo 3x. Tutte autofocus, tutte a 12 megapixel. E poi abbiamo anche la fotocamera, quella del selfie, quella anteriore, diciamo così, anch'essa a 12 megapixel. Possono registrare in 4K fino a 60 frame per secondo e quindi bisogna subito dire che la qualità video è eccezionale. Infatti, se andiamo a vedere un po' la prova sul campo, possiamo vedere quanto sia interessante poter utilizzare le tre telecamere, quindi partendo dall'ultra grandangolare alla main camera, quella da 26 mm, fino a quella da 77 mm, che ci permette di avere uno zoom 3x. Sono tre fotocamere che ci permettono una grande varietà dal punto di vista tecnico e quindi ci danno la possibilità di avere una grande libertà dal punto di vista artistico. Come abbiamo detto, riprendono fino a 4K e fino a 60 frame per secondo. Ovviamente, all'interno dell'applicazione abbiamo lo slow motion, il time lapse, insomma tutti elementi che già conosciamo e già erano presenti in altri smartphone, in altri iPhone. Un elemento particolarmente interessante, novità di questo cellulare, è l'opzione cinematografico, ovvero la possibilità di fare delle riprese con uno stile molto, molto cinematografico. Qual è la funzione di base? L'iPhone riprende la scena in maniera classica, però la analizza dal punto di vista software e a quel punto può dare un effetto sfocato sullo sfondo o sul primo piano. E quindi questo ci permette di avere un effetto tipico di lenti, ovviamente più professionali, che permettono di avere una lunghezza di focale tale da permettere la sfocatura dello sfondo o degli oggetti in primo piano. La cosa particolare però è che questa elaborazione, essendo software, può essere anche realizzata in post-produzione. E questa è la vera magia. Cioè noi facciamo una ripresa di qualcosa decidendo qual è il fuoco di quella ripresa, quindi magari vogliamo tenere a fuoco un soggetto in primo piano. E poi a un certo punto vogliamo mettere a fuoco invece qualcosa che è sullo sfondo. Però magari in questa ripresa, per mille motivi, o sbagliamo, oppure vogliamo successivamente avere un effetto diverso, ebbene in post-produzione possiamo decidere dove la fotocamera metterà a fuoco, ovvero se più in primo piano o se più sullo sfondo. Ovviamente possiamo anche decidere la sfocatura, quindi possiamo decidere quanto sfocare lo sfondo o meno. Questo permette davvero una grande libertà creativa, soprattutto nella possibilità di poter realizzare dei video con un appeal più cinematografico. Torniamo alle possibilità poi delle tre fotocamere. Ovviamente il 4K 60fps ci permette di avere delle immagini estremamente nitide, estremamente fluide, e soprattutto quando andremo a montare magari in Full HD possiamo anche ingrandire dei particolari, possiamo fare quello che si chiama Crop, e questo ci permette di selezionare all'interno della ripresa che abbiamo fatto degli elementi che ci interessano di più senza perdere di qualità. Tutto questo in soli 204 grammi, quindi davvero davvero molto leggero per avere tre fotocamere di questa entità. Ovviamente il sensore più largo e le fotocamere più performanti fanno sì che, come potete vedere, si abbia uno spessore un po' più ampio rispetto al cellulare che fa uscire le fotocamere, quindi ad esempio rende un po' scomodo poggiarlo su un tavolo perché abbiamo le fotocamere che sporgono un pochettino. Ma ovviamente dotandolo di una cover la questione si risolve perché la cover va a pareggiare tutto quanto e quindi abbiamo a disposizione uno strumento utilissimo per fare le nostre riprese. Ottima anche la stabilizzazione, qui state vedendo delle riprese mentre corro e come vedete sono particolarmente stabili. Si tratta di una stabilizzazione ottica direttamente sul sensore e questo permette alle immagini di essere veramente molto belle e molto fluide. Ovviamente poi se abbinate il cellulare anche ad un gimbal, ad esempio io utilizzo il DJI OM5, avrete delle immagini praticamente professionali. Quindi, uno smartphone molto piccolo, molto compatto, molto leggero da tenere in tasca e da tirar fuori in ogni momento in cui sia necessario fare delle riprese. Perché uno smartphone, quindi un cellulare al posto di strumenti più avanzati come magari una mirrorless o una videocamera professionale, magari anche compatta e con obiettivi intercambiabili? Beh, perché è estremamente comodo. Io ce l'ho in tasca e posso riprendere qualsiasi cosa in qualsiasi momento senza dover avere borse aggiuntive. Questo rende soprattutto dei cellulari di fascia alta come l'iPhone estremamente utili per chi fa travel blogging, per chi fa blogging oppure per chi fa giornalismo. Basta appunto tenerlo in tasca, tirarlo fuori, selezionare l'obiettivo che si vuole e fare la ripresa che si vuole fare. Ovviamente possiamo utilizzare anche delle altre applicazioni per poter fare delle riprese con un maggiore controllo, ad esempio degli ISO, dell'esposizione, della messa a fuoco. Quello che vi consiglio è Filmic Pro, che è un'applicazione molto molto interessante perché appunto permette di avere un estremo controllo su tutti gli aspetti delle tre fotocamere dell'iPhone. Quindi uno strumento estremamente semplice da utilizzare, molto compatto. In tasca avete tre obiettivi differenti, avete 4K a 60 frame per secondo, avete la possibilità di utilizzare l'opzione cinema, che vi assicuro vi innamorerete di questa opzione se volete dare al vostro video un appeal appunto più cinematografico. Audio eccezionale, ho fatto un test confrontando l'audio dell'iPhone con due microfoni esterni, lo Shure MV88 e il Saramonic Blick 500 e devo dire che l'iPhone esce molto molto bene perché ha un sistema di microfoni, quindi non un solo microfono, ha diversi microfoni che riescono a dare una qualità all'audio davvero davvero molto grande, ovviamente rimanendo abbastanza vicini al cellulare stesso. Quindi smartphone eccezionale per fare le vostre riprese e per dare ai vostri video una qualità professionale, ovviamente ovviamente non costa poco, stiamo parlando di un prodotto che costa tra i 1170-1180 euro nella versione base e arriva quasi a 1800 euro a seconda appunto di quanta memoria decidete di inserire dentro. Questo è un 512 giga, si arriva fino a un terabyte di memoria e vi assicuro che la memoria vi servirà perché ovviamente se girate in 4K i video iniziano ad essere belli pesanti. Registra anche in HDR, quindi ha la possibilità di avere una qualità delle immagini a 10 bit, quindi un range dinamico decisamente interessante, ma è una tecnologia che ancora deve svilupparsi perché ovviamente non abbiamo ancora tutti questi schermi HDR e ha senso l'HDR su schermi che possano supportare questa tecnologia. Che altro dire batteria? La batteria si comporta molto molto bene, sappiamo che l'iPhone non eccellono in questo aspetto, le batterie degli iPhone sappiamo che si scaricano in maniera abbastanza veloce perché abbiamo all'interno tutto un sistema che, come dire, consume energia. Il cellulare si comporta molto bene in condizioni normali, devo dire che quando si registra in 4K la batteria va giù abbastanza velocemente. Ovviamente regge tantissimo, io ho fatto tantissime riprese con un cellulare carico, quindi senza doverlo riattaccare alla corrente, ma se dovete girare dotatevi assolutamente di una powerbank. Trovate in descrizione una powerbank di ottima qualità, da portare assolutamente sempre in giro se volete fare riprese con il vostro smartphone e anche la descrizione del gimbal che io normalmente utilizzo insieme a questo smartphone. Quindi, consigliato? Sì, assolutamente sì, considerate il costo, ma è un ottimo, ottimo strumento per migliorare e per dare un appeal cinematografico e professionale ai vostri video. Ci vediamo nella prossima prova tecnica! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS